Stiamo per presentare, per ospitare un successo direi neanche europeo ma internazionale direttamente da dove viene oggi? Oggi è da Hong Kong. Direttamente da Hong Kong, finuccia di Vigevano. Nel mondo sono tutti in passerella, vanno cercando l'anima gemella. Si guardano negli occhi e poi chissà, e col sorriso poi si sceglierà. Si impallano il telefono per ore, nel mondo tutti cercano l'amore Se sono loghi, fiori, fioriranno, viva l'amore vero senza inganno Storie d'amore c'è chi viene e c'è chi va, storie d'amore senza limiti di età Grazie